Una passeggiata empatica su una carrozzina riservata al sindaco di Pescara. È la proposta che arriva dall'Associazione Carrozzine Determinate e dopo il botta e risposta legato all'ecospiaggia recentemente inaugurata lungo la riviera nord di Pescara e definita gioiello di inclusione. Questa spiaggia non ha nemmeno i requisiti minimi per essere considerata accessibile, smentisce con un comunicato l'Associazione Carrozzine Determinate, che per voce del presidente Claudio Ferrante invita il sindaco Masci a provare sulla propria pelle i disagi legati all'assenza di inclusione. Quella struttura, l'ecospiaggia, viola i diritti umani. Noi abbiamo fatto tante osservazioni tecniche, non sono state rispettate. Basti pensare che una persona in carrozzina non ha piazzole di stazionamento e quindi non può godere né della spiaggia né del mare. Una spiaggia costata 170 mila euro con denaro pubblico e parte dei privati investito al pubblico non può assolutamente negare e discriminare le persone con disabilità. Sono tante le questioni, non ci sono i parcheggi, sono bagni fuori norma, porte installate al contrario. Poi, ribadisco, non c'è copertura. Abbiamo cercato di far capire che quella è una struttura carente. Certamente abbiamo detto al sindaco, allora a questo punto non puoi fare altro, come fanno tutti i sindaci d'Italia sederti in carrozzina e capire perché hai combinato un disastro ed assolutamente devi rimediare. E quindi abbiamo proposto questa passeggiata empatica e speriamo che accetti questa nostra proposta. Però vediamo poca umiltà. Una cosa è molto chiara, lui deve assolutamente rispettare i diritti umani e consentire a tutte le persone con disabilità di poter godere della spiaggia e del mare. Ricordo che a Pescara non c'è una sola spiaggia pubblica accessibile, quindi una persona in carrozzina che risiede a Pescara o è un turista non può godere del pubblico, a meno che non abbia la possibilità economica di pagare e andare presso uno stabilimento balneare privato. Il sindaco ha un obbligo. È un sindaco, deve ascoltare i cittadini, viene pagato dai cittadini, gestisce il denaro dai cittadini e quindi è un obbligo rispettare le norme. Lì non sono state rispettate la Convenzione ONU nella 104 e quindi assolutamente quella struttura deve essere integrata e modificata immediatamente. La polemica nasce anche dal paragone con la spiaggia inclusiva di Montesilvano, mare senza barriere, divenuta in breve tempo modello di totale accessibilità. Ci arrivano chiamate da tutta Italia, il sindaco, siamo a pochi chilometri, avrebbe potuto copiare quantomeno il discorso legato alla totale accessibilità e alla fruibilità del mare e della spiaggia. Non è stato fatto, anche qui mi spiace, poca umiltà e tanta presunzione.